Sarà una delle 30 scuole più moderne ed efficienti d'Italia, una struttura futuristica su tre livelli totalmente antisismica e che produrrà molta più energia di quella che consuma. Una palestra realizzata su due livelli con spazi ad hoc a disposizione di studenti, docenti e personale scolastico, nonché aree che potranno essere fruite da tutta la collettività. Sono queste le grandi novità annunciate nel progetto che porterà alla costruzione Roseto degli Abruzzi della nuova scuola media Fedele Romani, che sarà realizzata al posto di quella attuale. È un investimento importante, una progettazione importante che viene carata dal Ministero sul nostro territorio e oggi, come abbiamo visto da questi fantastici rendering e da questa presentazione così accurata, davvero ha messo insieme il desiderio dei tanti genitori, il desiderio degli insegnanti, la prospettiva di un'amministrazione, insomma una comunità che ha saputo collaborare, ha saputo mediare, ha saputo trovare anche delle soluzioni, quelle importanti per far sì che ci sia una scuola innovativa, una scuola che possa davvero accogliere le future generazioni in sicurezza, perché ricordiamoci che si parte da un'analisi di vulnerabilità sismica, con nuovi spazi, con nuove prospettive, con nuove possibilità. Tutto questo senza tra l'altro danneggiare o comunque ostacolare quello che sarà l'occupazione della stessa durante gli anni in cui si svolgeranno i lavori. La nuova scuola inoltre ospiterà un auditorium, una biblioteca, una gora esterna, una mensa e orti didattici, edificio scolastico che verrà finanziato con 10 milioni di euro di fondi PNRR del bando Scuola Futura. Le tempistiche sono quelle che il PNRR ci prescrive, quindi tempistiche ferre, rigide, che ci impongono una transizione che sia il quanto più semplice possibile, e quindi a gennaio dovrebbero partire i lavori. Sono comunque tutte cose di cui si sta occupando il nostro dirigente. Possiamo dire che ci sarà massima sinergia per creare il meno disagio possibile agli studenti? Sì, questo sicuramente è un impegno che l'amministrazione comunale ha recepito, l'abbiamo anche condiviso con lo studio di progettazione. Hanno raccolto quella che è la nostra idea di una demolizione e ricostruzione a step, in modo tale che la transizione possa avvenire per gradi. E quindi la nostra idea è di rimanere comunque nella vecchia Romani, in attesa che si costruiscano i tre edifici della nuova Romani.